La questione migratori e l'accoglienza dei rifugiati, le sfide della globalizzazione, i giovani e le famiglie sono stati al centro del colloquio tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica d'Irlanda, Michael Higgins, ricevuto oggi in Vaticano. Il Pontefice e il Capo di Stato irlandese si sono confrontati su temi di comune interesse come la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della sua dignità in ogni stadi e condizione di vita. Riguardo allo sviluppo sostenibile si è rilevata l'importanza dei criteri etici nell'affrontare le sfide che la globalizzazione comporta, soprattutto a livello economico. Infine, il Papa e il Presidente d'Irlanda hanno avuto uno scambio di vedute sulle prospettive future del progetto europeo.